Ciao ragazzi, oggi volevo lasciare la mia personale recensione al team del Far Forecast soprattutto perché se lo meritano e soprattutto perché sono veramente un gruppo di professionisti che si mettono a disposizione dei trader neofiti e non con la massima serietà, trasparenza e professionalità in assoluto Niente, ho conosciuto il Far Forecast circa 4 mesi fa parlando con Manuel Trotta, uno dei fondatori Niente, mi ha convinto a usare il prodotto, il fatto che sia un indicatore unico nel suo genere qualcosa che non si trova in giro per il web scopiazzando quella da quel momento in poi infatti ho ottenuto dei particolari risultati che sono difficili, molto difficili da ottenere facendo un trading basato così su una banale analisi tecnica tanto per dire infatti essendo un indicatore particolare che non si trova in giro così nel web apprendo semplicemente facebook ha dei risultati con una media pari al 90-95% di riuscita io veramente ogni volta che faccio un'analisi col Far Forecast e apro una posizione difficilmente difficilmente la sbaglio quindi mi sento di consigliare a 5 stelle il Far Forecast sia per la grande efficienza del prodotto sia per tutto il team che ci sta dietro, che ci lavora dietro con un'assistenza costante, continua sia che uno stia iniziando adesso a fare trading, sia che già faccia trading ma voglia affinare le sue strategie e niente quindi recensione mia personale assolutamente positiva tra l'altro offre la possibilità di partecipare a un programma di affiliazione con delle ottime percentuali di guadagno quindi non solo si impara a fare trading ma dà anche la possibilità di guadagnare entrata passiva grazie al programma di affiliazione persone serissime e vi posso dire per una mia personale esperienza che aprendo oggi internet, facebook o qualsiasi social si trova veramente di tutto potete trovare tutto dalle sale segnali, dagli indicatori personalizzati, dai robot, qualsiasi cosa ma non troverete mai un indicatore come il Far Forecast capace di prevedere con tale precisione i prezzi futuri del mercato quindi voto 10 per il Far Forecast per il suo team per tutte le persone che ci lavorano attorno e soprattutto per i risultati che il Far Forecast ottiene tutti i giorni spero di esservi stato utile e spero che anche voi possiate entrare a far parte di questo grande gruppo ciao a tutti, buona serata